Come previsto qualche tempo fa, sono stati registrati segnali positivi sull'andamento delle vendite effettuate nel periodo natalizio. I dati arrivano grazie a una ricerca effettuata dal Centro Studi della Confesercenti Cesenate. Tra le 50 imprese locali oggetto dell'indagine, il 45% dichiara vendite maggiori rispetto al 2016, il 48% uguali e solo il 7% minori. Un altro indicatore mostra come la maggior parte degli acquisti vengano effettuati nella settimana che precede il Natale. L'andamento delinea una notevole ripresa per il comparto alimentare, con un forte interesse nei confronti dei prodotti locali. Bene anche bar e ristoranti, che tra pranzi di Natale e Santo Stefano hanno registrato il tutto esaurito. Situazione stabile per i settori che riguardano abbigliamento, calzature, profumeria e agenzie di viaggi, che dopo il calo degli anni passati ora si mantiene lineare. In generale i dati degli esercizi cesenati rispecchiano quelli nazionali, con settori, quale quello alimentare, che recuperano importanti fette di mercato perse in abbondanza in questi anni. Segnali dunque che incoraggiano e lasciano intravedere una decisa ripresa delle vendite.